In realtà la Commissione, noi sono benvenuti questi passi, però la Commissione purtroppo si attacca al quadro normativo che oggi è possibile secondo i trattati europei, cioè critica e sanziona le aziende per questi accordi fiscali seguendo la normativa degli aiuti di Stato. Come sapete l'Unione Europea non ha competenze in maniera di tassazione, perché stanno in capo agli Stati membri, quindi l'unico modo per andare un po' a contrastare questa pratica delle multinazionali di eludere il fisco è quello di attaccarsi alla normativa sugli aiuti di Stato. Qual è il paradosso soprattutto della decisione di oggi? È che questi soldi, Fiat e Starbucks, li dovranno ridare a quelle stesse amministrazioni, con gli stessi Stati che le hanno aiutate a evadere il fisco. Quindi Fiat ridarà indietro questi soldi a Lussemburgo, soldi che sono stati sottratti a altri Stati membri, Starbucks li darà all'Olanda. Così non funziona. Noi nella Commissione Taxi stiamo spingendo per la massima trasparenza di questi accordi e per far sì che in Europa ci sia per le aziende, per le multinazionali, una base imponibile comune, cioè denominata in maniera comune e uguale in tutti gli Stati. Poi ognuno può mettere entro certi limiti il livello di tassazione che vuole, però la base imponibile, cioè quello su cui io ti vado a calcolare le tue tasse, deve essere uguale. Perché oggi il problema qual è? Che tramite artifici contabili, tramite l'aiuto anche delle amministrazioni fiscali di alcuni Stati membri, perché di fatto esistono dei paradisi fiscali nell'Unione Europea, riescono queste aziende ad azzerare l'imponibile negli Stati a tassazione maggiore, magari come l'Italia o la Spagna, e a portare questo imponibile in Stati dove la tassazione a volte è anche nulla. Ricordiamo che alcune di queste aziende hanno goduto di aliquote effettive sui loro utili lordi inferiori all'1%. Questo è veramente uno scandalo. Bene questi due passi della Commissione, ma il paradosso è veramente grande. Questi soldi andranno nelle casse di quei governi che hanno aiutato queste aziende a eludere il fisco. Così non funziona.